Amici di Radio Roma Sporta, ciao e buonanotte da Alberto Fiano. Il punto sulla Roma, l'immancabile appuntamento dopo ogni gara dei giallorossi. Oggi è il punto dopo Roma-Torino, una partita che ha messo a durissima prova le coronarie dei tifosi della Roma. Si è visto comunque una Roma in calo, in calo atletico ma anche non più con quella fluidità di gioco che aveva caratterizzato le otto vittorie consecutive dell'era Spalletti-Bissa. Purtroppo la Roma forse sta risentendo un po' di quello sforzo fatto per recuperare posizioni Champions oppure anche della pressione che, visto che il secondo posto sta lì difficilmente raggiungibile, della pressione dell'obbligo della vittoria a tutti i costi per mantenere vive quelle speranze ancora di poterlo raggiungere e sarà decisivo a tal punto il prossimo impegno interno con il Napoli il 25 aprile all'Olimpico lunedì alle ore 15. Purtroppo c'è da registrare anche che la Roma è tornata ad avere grosse problematiche difensive perché nelle ultime due partite ha preso cinque gol tra Atalanta e Torino, due squadre di media-bassa classifica e quindi questo anche è un calo preoccupante, un dato preoccupante. Speriamo che in questi giorni che precedono appunto questi 4-5 giorni che precedono l'appuntamento clou della stagione a questo punto, Spalletti possa lavorare molto sulla fase difensiva cosicché da registrare nuovamente i movimenti della difesa, da renderla nuovamente impermeabile come è fatto nelle prime 6-7 partite della sua gestione BIS appunto. Poi che dire, forse ha anche un po' influito il mini turnover che il tecnico toscano vuoi per rischio di fide e vuoi anche per problemi fisici di alcuni elementi si è sentito costretto o si è visto costretto a fare. Comunque il fatto sa che il gioco comunque mi ha risentito. Bisogna evidenziare ciò che si è visto oggi in campo. Il campo ha detto che veramente c'è stata una direzione di gara, scusate se uso termini pesanti, ma non può essere altrimenti vergognosa ai danni della Roma. Un rigore generosissimo al Toro perché di quei contrasti o quelle trattenute in aria come quella che ha causato il rigore del Torino se ne vedono a centinaia. Forse in Genova Manolas però anche troppo troppo generoso l'arbitro o troppo fiscale dare subito il rigore al Toro senza la minima esitazione. Per poi non dare due rigori nettissimi alla Roma per due falli nettissimi, chiari, solari, di mano dei difensori del Toro che evidentemente pensavano di essere su un campo di volley e non di calcio, non sanzionate. Poi dobbiamo anche sentir dire che Ventura si lamenta dell'arbitro per il rigore accordato alla Roma. Forse quello era il meno istuto, però se andiamo a compensare tutto ciò che si è visto in precedenza negli antecedenti 87 minuti che hanno diviso dal calcio di rigore di Totti all'inizio della partita, veramente il signor Ventura la rispettiamo, ma ha perso alla sua età davvero un'occasione per stare zitto e per tenere alto il suo senso del pudore, perché veramente di questo stiamo parlando. Quindi è un onore al Toro che ha fatto una buona partita. La Roma non ha giocato ai suoi livelli quelli che ultimamente a cui ci aveva abituato, che hanno fruttato le otto partite vinte consecutive. Però da qui a dire che la Roma è stata aiutata da decisioni arbitrali che hanno penalizzato il Toro, ce ne passa e come ce ne passa. Perché poi la Roma ha fatto una partita comunque sotto il profilo nervoso dell'orgoglio, della tigna, come diciamo a Roma, dell'abbregazione, della voglia di vincere, di buttarla, di gettare il cuore oltre all'ostacolo, veramente lodevole. Quindi veramente poi penso che alla fine il campo abbia emesso il suo verdetto e giustizia è stata fatta perché la Roma non poteva non vincere questa partita. Soprattutto per quello che si è visto in termini proprio di etica sportiva, è giusto che la Roma abbia vinto perché veramente è stata una cosa di uno schifo inaudito non accordare questi due rigori alla Roma. Io spero che la società in tal senso con i giusti modi ovviamente si faccia sentire nei vertici della Lega o della Federazione richiamando alla maggiore attenzione appunto la classe arbitrale nei suoi confronti. Non vogliamo favori ma neanche questi torti che hanno veramente dello scandaloso perché è sotto gli occhi di tutti. Allora mi domando che cosa si aspetta ancora a fare intervenire la moviglione in campo o meglio ancora soprattutto nel rigore di Gazzi che l'arbitro d'aria stava proprio lì davanti ed era proprio ampia la sua visuale appunto. A che serve stare lì? Chi lo metterò a fare? Quindi richiamiamo più attenzione proprio per avere limpidezza sullo svolgimento delle partite. Non vogliamo favori ma neanche torti. Questo è quanto. Poi comunque ecco sottolineiamo il grande carattere che ha avuto la Roma. Una prova d'orgoglio veramente lodevole. E questo è scaturito con l'entrata in campo dell'icona del calcio romano soprattutto della storia della Roma ma anche del più forte giocatore del calcio italiano degli ultimi 30 anni ossia il numero 10 Francesco Totti. Propongo in primis di farle una statua accanto a Marco Aurelio al Campidoglio e poi altre 246 statui di Totti per le varie zone di Roma perché lei merita veramente. Con lui in campo la squadra anche alliello psicologico è come se avesse avuto una sensazione di imbattibilità e di conseguenza gli avversari le ha fatto ovviamente un contraccolpo psicologico un contraccolpo psicologico appunto inverso. Gli sono abbassati 21 secondi per dare l'entrata in campo per mettere un sigillo decisivo ossia il gol del 2 a 2 su questa partita. Veramente grande, unico e immenso capitano, monumentale, straordinario, fantastico. Ci ha regalato anche questa sera emozioni veramente indescrivibili che rimarranno indelebili, rimarranno nei cuori di tutti noi. Veramente commovente per ciò che ci ha regalato questa sera. Allora dico io, società, per il bene della Roma si metta da parte questa querelle diciamo tra Spalletti e Totti, Totti e la dirigenza, si pensi ora a queste cinque partite soprattutto alla prossima che è decisiva per il futuro di questa stagione al bene della Roma ma dopo fatto ciò si faccia veramente chiarezza su questa faccenda e soprattutto si rispetti colui che da vent'anni è la storia della Roma e che ancora oggi sta dimostrando che è in grado di giocare alla grande e di essere ancora decisivo, entra col Bologna e fa l'assist per il gol del 1-1 entra a Bergamo e fa il 3-3 e poi mette una palla d'oro, d'oro per Gieco che purtroppo non sfrutta e può essere il 4-3 entra qua con il Torino e in 8 minuti ti fa una doppietta e stai sotto perdendo la partita e te la fa vincere e ti viene ancora ancorato a una speranza a secondo posto quindi è veramente, come dire, ovvio non può fare tutti i 90 perché non li può reggere così ma se è in grado di poterli fare questi 25-30 minuti la Roma non può non consentirli visto anche ciò che ha dato lui alla Roma e il sentimento che ha per la Roma di chiudere gloriosamente la carriera come merita rispetto primo per un uomo e poi per il campione quindi 247 volte grazie di cuore capitano grazie di cuore capitano sei il numero 10, sei la Roma sei la storia della Roma Totti superstar quindi ripeto, tre punti fondamentali fondamentali, importantissimi bellissimi arrivati così quando ormai all'84esimo nessuno più ci sperava la Roma ha mostrato anche capacità di ribaltare il risultato che la vedeva perdente quindi vuol dire che ha grinta, attributi e cuore da vendere tutte qualità che serviranno veramente non al 100% ma al 101% in queste ultime 5 partite soprattutto lunedì 25 all'Olimpico dove giungerà il Napoli che ora occupa la seconda posizione la Roma ha il dovere di crederci perché è di puntare al massimo il traguardo e quindi perché solamente puntando al massimo il traguardo poi si può trovare il meglio da ogni situazione fortunatamente oggi il Genova ci ha fatto un regalo l'Inter di cui sentivamo il fiato sul collo il fiato sul collo appunto per la terza posizione è incappato in una sconfitta gol di De Maio a 12 dalla fine e quindi ora da noi dista 7 punti quindi almeno per il terzo posto la Roma sta un po' più tranquilla ma ora concentriamoci sul 25 aprile ma speriamo, ritorniamo a ripetere che Spalletti ci faccia rivedere la Roma delle otto vittorie consecutive e che questi 4-5 giorni appunto servano servano a lui per rimettere a posto le cose a livello tattico, fisico e mentale perché è troppo importante che la Roma sia presente con queste caratteristiche al 100% sul campo sia di allenamento ma soprattutto durante la partita con questo è tutto veramente vi auguro la buona notte vi ringrazio prima però voglio ricordare o meglio mandare i saluti ai miei carissimi amici ossia Roberto De Angelis di Step Radio RDA Radio Radio Bomber che ogni venerdì pomeriggio con Stefano Tini mi dà l'onore è il privilegio e il piacere di partecipare alla loro trasmissione Questa è la Roma saluto e mando un grandissimo abbraccio al mio carissimo amico fraterno Guglielmo Timpano il conduttore della trasmissione televisiva più seguita a livello regionale ossia il Tribunale delle Romane ogni venerdì sera in onda in diretta dalle 21.30 alle 24 su Reteoro che conduce insieme a Claudio Capuano che saluto anche a lui saluto e che anche Guglielmo Timpano l'ideatore dell'innovativa Audio Sport News il primo radio news aggregator di notizie istantanee vocali che sta veramente facendo faville e sempre più in espansione e poi saluto anche la mia carissima amica dottoressa in dizione logopedia artista cantante teatrale e anche attrice teatrale Annalisa Peruzzi per chi fosse interessato alle sue materie vi ricordo di visionare la sua pagina Facebook e poi vi ricordo che alle mie agenzie ossia di Mago Alberto non ho più Alberto Fiano opinionista ho la doppia veste Batman e Bruce Wayne soprattutto in quella di Via Gagna nella mia agenzia di Via Gagna 141B vi aspettano grandissimi bonus di benvenuto soprattutto per chi volesse aprire un conto gioco online ad apertura conto fino a cariche di 25 euro regaliamo il 100% di bonus quindi se tu carichi 20 euro ne avrai accreditati sul conto 40 euro veramente una promozione imperdibile e poi tante altre sorprese sono in serbo per voi quindi accorrete e seguiteci anche sul sito dei pronostici numero 1 del web ossia www.pronosticoonline.com la O di pronostico si elide con la O di online e sulla pagina facebook appunto delle agenzie del Mago Alberto ripeto per questa sera davvero tutto vi ringrazio e l'ascolto vi auguro una buona serata un buon proseguimento di settimana la buonotte e stasera più che mai chiudo con oltre il mio classico dagli romadaglie grazie unico immenso straordinario capitano numero 10 Francesco Totti ciao e a presto qui su Radio Roma Sport con Alberto Fiano ciao